Musica Alghero ha ottenuto riconoscimento di primo livello nella nuova rete ospedaliera, un risultato importante per il presidio di Alghero Zieri che vedrà istituita la terapia intensiva polivalente e la rianimazione senza necessità di alcun monitoraggio. Questo è il commento del primo cittadino, Mario Bruno, che accoglie con favore e esprime soddisfazione per un passo avanti fondamentale rispetto alla pur ottimistica previsione del luglio scorso che rimandava l'attuazione del primo livello al 2019, previo monitoraggio preventivo sui dati relativi alle patologie. È un risultato di tutti, chiarisce Bruno, che già visti fin dal primo momento impegnati per veder riconosciuto il miglioramento delle prestazioni ospedaliere erogate e il potenziamento dei servizi sanitari nel territorio. In attesa della definitiva approvazione della nuova rete ospedaliera regionale, la decisione viene accolta come il frutto del lavoro congiunto dei sindaci, dei consigli comunali, dei consiglieri regionali, in rapporto con la giunta regionale. Nell'interesse di tutti e del nord-ovest della Sardegna, in particolare, aggiunge Mario Bruno, dobbiamo rafforzare la vigilanza per raggiungere il risultato rappresentato dal nuovo ospedale, da anni auspicato, del quale siamo già in possesso dello studio di fattibilità, che accorperà anche l'ortopedia, lasciando alla struttura del marino le funzioni specialistiche di riabilitazione e lungodegenza. Anche questo obiettivo è compreso nelle previsioni esplicite della rete ospedaliera in fase di approvazione. Denunciato dagli uomini della polizia locale un trentenne sassarese per spaccio di droga, l'uomo è stato notato dagli agenti in Borghese durante un normale controllo all'interno dei giardini di Via Tavolara perché insospettiti dall'atteggiamento di un personaggio già noto alle forze di polizia. Il trentenne avvicinava i ragazzi che transitavano in quell'area e scambiava con loro poche parole. Gli agenti appartenenti al nucleo operativo motociclisti lo hanno quindi bloccato e perquisito. È stato così accertato che il pregiudicato aveva con sé, nascosti negli slip, 14 involucri contenenti marijuana, mentre in tasca gli sono state trovate diverse banconotte, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Un successivo controllo nell'abitazione del sospettato ha permesso di recuperare un ulteriore quantitativo di erba. Gli uomini di Via Carlo Felice hanno quindi sequestrato la droga e denunciato sassarese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa attività si inserisce nel quadro della campagna di sicurezza urbana che il comando di Sassari sta portando avanti da oltre un anno. La vigilanza in Borghese all'interno dei giardini costituisce solo il più recente strumento operativo messo in campo con la volontà di contribuire a rafforzare sia la sicurezza reale che la percezione di sicurezza nella comunità, ma soprattutto a prevenire e reprimere lo spaccio verso i più giovani. 24 ore per ideare soluzioni di sviluppo sostenibile anche per Sassari e Cagliari, in contemporanea internazionale con altre 240 città nel mondo. E' lo scopo di Climaton, un'iniziativa planetaria sui cambiamenti climatici in programma il prossimo 27 ottobre. E' promossa da Climate Kick, il più grande partenariato pubblico privato europeo che si occupa di innovazione per contrastare i cambiamenti climatici, con cui la Regione Sardegna ha sottoscritto un protocollo d'intesa lo scorso giugno per portare avanti i progetti comuni sulla tematica. Climaton è stato presentato a Cagliari, nell'ambito di Sinova, in occasione della riunione del Tavolo Interassessoriale per la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. ClimatKick è il più grande partenariato al mondo che ha l'obiettivo di combattere i cambiamenti, diciamo gli impatti negativi del cambiamento climatico attraverso iniziative di innovazione che prevedono percorsi di formazione, percorsi di sostegno alle nuove idee imprenditoriali e anche il supporto a progetti innovativi. L'assessorato regionale dell'ambiente ha svolto l'attività di coordinamento e di raccordo, fornendo il supporto tecnico alle amministrazioni comunali. Abbiamo portato a Sinova la tematica climatica che rappresenta una delle sfide del secolo e si deve capire che l'innovazione nasce anche sulle tematiche del clima. Ci concentreremo in particolar modo su due aspetti, quello è il centro storico e la zona industriale. Sono due parti fortemente compromesse dal punto di vista, per esempio, della impermeabilizzazione dei suoli. I mutamenti climatici incidono non soltanto appunto sull'aspetto urbano ma sull'aspetto economico e sociale del nostro territorio. e mi riferisco in maniera particolare all'Anurra, insomma, dove il tessuto economico sta soffrendo parecchio. È sinonimo di amicizia rispetto delle differenze, acquisizione di nuove competenze ed esperienze. L'Erasmus è un punto centrale delle politiche di Ateneo e gli studenti che arrivano a Sassari aggiungono valore alla nostra università. Lo ha ribadito ieri sera il rettore Massimo Carpinelli, intervenuto nell'Aloa Magna, alla tradizionale cerimonia di benvenuto che l'Ateneo rivolge ai suoi studenti internazionali. L'inizio di una nuova storia d'amore è lo slogan scelto dall'associazione Erasmus Student Network. Una serata organizzata dal Comitato Erasmus di Ateneo, dall'Ufficio Relazioni Internazionali e dalla sezione di Sassari dell'Erasmus Student Network, che ha voluto premiare con una targa Marco Scanu, il suo socio più attivo. Quest'anno l'Ateneo ospita i primi studenti incoming nell'ambito dell'International Credit Mobility, la nuova misura del programma Erasmus Plus introdotta nel 2015, che consente la mobilità studentesca oltre l'Europa. Grazie all'International Credit Mobility, due studentesse marocchine dell'Abdemalek SA degli University e una studentessa tunisina dell'Università di Sfax trascorreranno un semestre dall'Università di Sassari. Alla festa di benvenuto hanno partecipato 152 studenti in ingresso per mobilità di studio e 42 studenti arrivati a Sassari per un tirocinio con l'Erasmus Traineeship in Sardinia. Gli intermezzi musicali sono stati curati dal trio jazz composto da Marco Bande, Marco Ochioni e Jacopo Careddu del Conservatorio Canepa, istituzione che accoglie anch'essa studenti incoming e outgoing. La serata è stata coordinata dalla presidente dell'Erasmus Student Network, Daniele Angioni. Sono inoltre intervenuti l'assessore comunale all'istruzione, Alba Canu, il vice direttore del Conservatorio Canepa, Stefano Melis e l'associazione goliardica turritana. La storia del Banco di Sardegna si lega strettamente all'evoluzione dell'economia e della società sarda e affonda le sue radici nell'agricoltura e nel credito agrario. Ecco perché il tema dell'invito a palazzo di questa edizione è quello del lavoro, dei campi, il riposo e la festa. La sede storica dell'Istituto di Credito di Viale Umberto Assassari è stata aperta al pubblico per tutta la giornata di sabato per consentire allo stesso di visitare le sue collezioni pittoriche e numismatiche che ci vengono introdotte dal direttore del Banco, Giuseppe Cucurese. Sì, quest'anno abbiamo voluto fare un'esposizione particolare con un'attenzione all'agricoltura, quindi al lavoro della terra e quindi al riposo il giorno della festa. Questo perché ormai tutti gli anni vogliamo anche fare una singola rispetto all'esposizione complessiva. L'anno scorso erano i ritratti. Quest'anno è la terra, la terra anche perché in effetti riteniamo che l'agricoltura, tanto in passato quanto oggi e speriamo ancora di più domani per la Sardegna, possa essere motivo di rilancio anche di tipo economico. Tra le sale del palazzo di Viale Umberto di stile neorinascimentale i dipinti dei più importanti artisti sardi, quali Pietro Antonio Manca, l'importante collezione di monete, alcune macchine agricole recentemente restaurate e una targa del 1920, le tele di Meledina per poi passare alle opere di Biasi con l'archivio storico, la lettera delle dimissioni di Francesco Cossiga, i quadri di Desi e gli antichi documenti dal Settecento, tre piani di esposizione visitate anche dal sindaco e da molti esponenti della giunta del Consiglio Comunale, le grandi sale al secondo piano con stucchi e lampadari in vetro di Murano e le bambole in abito sardo delle sorelle Ruiu che troneggiano nella sala Giago, dove trovano spazio anche le filatrici dipinte nel 1922 da Hector Nava. Passando tra i vari ambienti affollati dagli studenti delle superiori, guidati da colleghi che fungono da ciceroni nell'alternanza scuola-lavoro, si arriva fino ai due dipinti più pregiati dell'intera collezione, che ritraggono due figure di donne, una nobildonna sarda e una filatrice, una collezione che ripercorre la storia sarda ma che rivela anche le origini del banco. Sport, inclusione e prevenzione. Questo è il tema del convegno che si è svolto ieri nella sala Angioe della provincia di Sassari, organizzato da diverse associazioni, quali la Don Bosco Calcio a 5, Il Sogno, quella di Encomatologia, Mariangela Pinna Onlus e Lanxa Sassari Onlus. L'incontro è stato moderato dal pedagogista e capellano del carcere di Bancali, Gaetano Galia, tra i relatori Al Bacanu, assessore allo sport e alle politiche educative del comune di Sassari. Lo sport è come elemento importante di socializzazione ed inclusione sociale nella vita dei bambini e delle persone autistiche, ma lo sport, visto anche come prevenzione rispetto a fenomeni di emarginazione sociale di soggetti a rischio e di prevenzione e difesa da alcuni tipi di tumori. I temi sono stati affrontati da Marco Sanna, ex giocatore di Serie A e allenatore del Sassari Latte Dolce Calcio, da Manolo Cattari, psicologo dello sport, e dalla psicologa Eleonora Piredda. Il convegno è la parte conclusiva di una serie di iniziative collegate alla lotteria di beneficenza, un gol per la vita, giunta la sua seconda edizione.